Devo dire che è stato sempre considerato un grande poeta, Leopardi, negli Stati Uniti. Non si capiva la grandezza di Leopardi e la varietà. Forse tutti sapevano la poesia, conoscevano la poesia, l'infinito. Ma questo è solo una parte dell'opera di Leopardi, è solo una fase della sua gioventù, in un certo senso. Dunque, avendo tutta la poesia in inglese ed edizione bilingue, è stato molto importante. Ma la traduzione dello Zibaldone è una cosa, come si dice, una pietra migliare. Perché il pensiero di Leopardi è così eccezionale. Ma leggere lo Zibaldone è un'esperienza incredibile e finalmente c'è la possibilità di farlo in inglese. Fino a pochi decenni fa, pochi pochi, quando noi andavamo fuori d'Italia e si diceva, ci chiedevano qual era il nostro oggetto di studio, se noi rispondevamo Leopardi vedevamo, specialmente negli Stati Uniti, una gentile freddezza. Quasi non si conosceva il nome. Certamente, negli ultimi anni si è fatto un grandissimo lavoro di promozione in questo senso, a cui la traduzione inglese dello Zibaldone è stata una cosa clamorosa. Anche questa è un'esplosione. Perché finalmente studiosi, ma non solo studiosi, insomma, di ogni disciplina si sono potuti rendere conto, leggendo e guardando l'intensità, l'enorme, l'enormità di quest'opera, si sono potuti rendere conto di quale, di quanta ampiezza, di quanta complessità e di quanta attualità abbia il pensiero leopardiano. Prima erano stati tradotti canti integrali, una traduzione integrale che è stata pubblicata da una casa editrice importantissima ed è stata inserita dal New York Times tra i cento libri più importanti del mondo. Ora c'è Lo Zibaldone e so che quello non è solo un lavoro di traduzione, è un lavoro di interpretazione. Cioè veramente i coloro che hanno tradotto, il tradurre Lo Zibaldone, vabbè, come tradurre ogni grande opera, ma insomma è un'impresa che farebbe tremare le vene ai polsi a chiunque, no? E invece l'impresa è riuscita e ha dato l'edizione dello Zibaldone anche un contributo critico, interpretativo all'opera stessa. Come è ogni opera di traduzione quando è una vera opera di... perché è inutile. La teoria della traduzione così ampia, così interessante e sviluppatasi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci ha dato modo di fare tante riflessioni sull'importanza che tradurre ha per comprendere, no? Quindi la risposta che c'è stata nel mondo intero, direi, a questa traduzione, ci fa sperare che Leopardi comincia a diventare un poeta che possa entrare nel canone, non solo occidentale, come diceva Bloom, nel canone dei grandi poeti che finora erano Dante, Scespi, Romero. È probabile, già Bloom lo aveva ipotizzato, che anche Leopardi possa e per noi, per me deve, ma che possa entrare in questo canone come tre, come una delle più grandi voci che ha dato la possibilità di esprimersi ai temi fondamentali dell'essere uomo in qualsiasi epoca del mondo e oggi più che mai, insomma.